Musica Special Look Academy, quali i principali focus e come si raggiunge l'eccellenza in questo settore? In realtà noi cerchiamo di fare semplicemente il nostro meglio, il nostro segreto, chiamiamolo così, sono gli allievi. Noi cerchiamo di percepire quali sono le esigenze del mercato, il mercato richiede l'eccellenza, il mercato del lavoro richiede persone sempre più formate, persone che sappiano fare qualcosa in più. Special Look Academy continuamente studia il mercato e nel proprio mondo cerca di offrire, anticipare un po' i tempi, offrendo ai nostri ragazzi ciò che il mercato chiede. La Special Look Academy era partita all'origine con pochi settori, adesso è suddivisa in divisioni, quindi abbiamo la divisione hair, divisione nail, divisione make-up, divisione tattoo e divisione estetica. Poi abbiamo la divisione estetica in Cionciglia, io parlo di divisione perché in realtà sono mondi a sé stanti. Noi siamo distributori in Italia della Lush Perfect che è un brand famosissimo, è un brand londinese di alta qualità. La Lush Perfect è un'azienda che si occupa di extension ciglia, cura delle sopracciglia, la cosiddetta laminazione delle ciglia, ovvero colorazione e curvatura delle ciglia naturali, microblading. La Lush Perfect è un marchio a livello mondiale molto conosciuto. Una delle novità in cantiere su cui già stiamo lavorando è la probabilità di una internazionalizzazione della Special Look Academy. Un ente di certificazione internazionale della formazione londinese molto famoso, presente in 54 strati del mondo e negli Stati Uniti, ci ha proposto, quindi sono venuti loro, ci hanno proposto di creare un brand di formazione made in Italy da esportare nel mondo. Internazionalizzare un brand significa anche avere una certificazione che supporti lo stesso brand. Su che cosa state lavorando anche? Stiamo anche lavorando per aprire altre sedi, sia su Roma che anche fuori Lazio. Ci saranno delle novità. Con questa internazionalizzazione e queste certificazioni daremo la possibilità ai nostri allievi di avere titoli non solo che siano riconosciuti in Italia e in Europa, ma contemporaneamente un doppio titolo, la cui certificazione sarà valida in 54 paesi del mondo e anche negli Stati Uniti d'America. Il futuro, cosa prevede? Il Fresh Look Academy essenzialmente prevede sempre una cosa, che è il proprio slogan, formarsi per non fermarsi mai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.